Continuiamo la nostra serie su Git e oggi vediamo cosa installare e facciamo il nostro primo commit in un repository locale. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Quindi, per usare Git ho bisogno di installare il pacchetto Git, chi l'avrebbe mai detto? E oltre al pacchetto Git ti consiglio vivamente anche TIG, che è un'interfaccia testuale per Git. TIG semplifica notevolmente le operazioni di staging e commit ed inoltre ha un rudimentale visualizzatore di history. Altro tool fondamentale è MELD, che è un tool grafico per visualizzare le differenze tra file o tra revisioni dello stesso file e permette di effettuare il merging e risolvere conflitti in maniera semplice ed intuitiva. Per un utilizzo minimale di Git, questi tre pacchetti bastano e avanzano. Però utilizzare Git esclusivamente a delle linee di comando è tedioso e facilmente soggetto ad errori. E TIG, per quanto quello che faccio lo fa veramente bene, è molto limitato nelle funzionalità. Quindi abbiamo due scuole di pensiero. I programmatori che usano IDE tenderanno ad utilizzare le funzioni di Git del proprio IDE. E qui mi riferisco non solo a VS***, che integra numerose funzionalità di Git, ma anche a IMAX, che a quanto dicono ha un supporto eccezionale per Git. Io invece, che sono della scuola di pensiero più old school, diciamo, dove seguo la filosofia di Unix, cioè un programma deve fare una sola cosa e farla bene, non sono così entusiasta di usare Git nel mio editor. Quindi, sebbene esistano dei plugin per Vim per usare Git, preferisco piuttosto utilizzare dei tool dedicati. Nello scorso video lamentavo la mancanza di un tool tipo TortoiseHG per Git, ed il tool che più si avvicina si chiama RabbitVCS. RabbitVCS, pur essendo un tool grafico, è invocabile da linea di comando, e proprio per questo installiamo il pacchetto RabbitVCS CLI, ma volendo è anche possibile integrare RabbitVCS nel tuo file manager grafico. Purtroppo, su Ubuntu 22.04 sono pacchettizzate solo le integrazioni con il file manager di Gnome e XFCE, ma io in questo momento sto usando il desktop Mate, quindi se volessi integrare RabbitVCS col mio file manager, dovrei installare l'integrazione a manina. Pazienza. Ora che abbiamo installato tutto, andiamo a configurare Git. La prima cosa che dobbiamo assolutamente configurare è uno username ed una email. Per lo username andiamo a dare il comando gitconfig-global user.name seguito dal nostro nome utente, per esempio free. Git vuole per forza un indirizzo email, ma non è necessario che sia valido, quindi se non vogliamo dare il nostro indirizzo email in giro possiamo inventarci qualcosa tipo non sono affari tuoi. Poi, visto che abbiamo installato meld, andiamo a configurarlo come diff tool. Andiamo a configurare meld anche come merge tool. Ora che abbiamo una configurazione minima funzionante, andiamo a crearci un repository. Per prima cosa andiamo a crearci la directory che contare il repository e spostiamoci in essa. A questo punto diamo il comando git init. Lascia perdere suggerimenti riguardo al nome del branch iniziale che al momento non ci interessano, ma vedi che ora il prompt di fish contiene la parola master tra parentesi che sta ad indicare che ci troviamo nel branch di git chiamato master. I branch li vedremo in un prossimo video, comunque. E vediamo che è stata creata una directory nascosta chiamata .git ed è proprio all'interno di questa directory che avviene tutta la magia di git. Il contenuto di questa directory non ci interessa, tanto usiamo i vari tool che abbiamo installato per fare tutto quello che ci serve con git, ma è importante sapere che la caratteristica di un repository git è proprio la directory .git. Molto bene, ora non ci resta che mettere qualche file all'interno di questa directory. Visto che sono pigro, uso un costrutto for per crearmi 5 file di testo, ognuno che ha sia come nome che come contenuto file seguito dal numero, quindi file1, file2, file3, file4, file5. A questo punto ci ritroviamo in una directory che contiene i 5 file appena creati e la directory .git per dire che si tratta di un repository git. Questo significa che tutti e cinque file sono automaticamente traccedenti da git, vero? La risposta è no. Sei tu che devi dire a git quali file vuoi che tracci e quali no. La seconda domanda che ti potresti porre è ma scusa, non conviene che git tenga sempre traccia di tutti i file contenuti in un progetto? E anche qui la risposta è sempre no. Pensa per esempio ad un software scritto in C. In questo caso ha senso tenere traccia tramite git di tutti i file sorgente. Ma i file oggetto e l'eseguibile generato è meglio che non vengano tracciati da git. Ricorda che git è pensato per i file di testo, non per i file binari. Oppure pensa ad un software scritto in JavaScript. Non è raro ritrovarsi la directory NodeModules che pesa svariate centinaia di megabyte e contiene centinaia di migliaia di file sotto directory. In questo caso non ha senso tracciare tramite git la directory NodeModules che tanto è possibile generarla automaticamente con un semplice comando. Quindi conviene far tenere traccia git solamente ai file sorgenti, ai file che sono necessari per la generazione del progetto tipo il makefile per i progetti C o il package.json per i progetti JavaScript e nient'altro. Sebbene esistano comandi git apposta, io preferisco usare il nostro fidato TIG per effettuare le operazioni di aggiunta, staging e commit dei file. Andiamo quindi ad avviare TIG dando il comando TIG status. Ah, una cosa. TIG è poco intuitivo all'inizio, quindi in qualsiasi momento tu avessi bisogno di una rinfrescata su quali tasti corrispondono a quali azioni, ricorda che il tasto H ti mostra una schermata di help in qualsiasi momento. Purtroppo l'help è generico e non è contestualizzato alla vista attuale, ma non si può avere tutto dalla vita. Vedi che in fondo alla schermata c'è la sezione untracked files, che, come dice la parola stessa, sono i file che git non sta tracciando. Postiamoci, usando freccia su e freccia giù, sui file che vogliamo che git tracci. Per esempio, vogliamo tracciare il file file1. Quindi, andiamo a posizionarci su file1 e premiamo il tasto U. A questo punto, vedi che file1 si è spostato nella sezione changes to be committed ed il suo stato è cambiato da punto interrogativo, cioè non tracciato, ad A, cioè aggiunto. Questo significa che al prossimo commit git terrattraccia del file file1. Mettiamo caso che vogliamo tracciare altri file. Con TIG basterebbe spostarsi sui file uno ad uno e premere U su ogni file. Se hai pochi file, questo è fattibile, e anzi te lo consiglio. Ma se devi aggiungere decine o centinaia di file, l'operazione potrebbe diventare tediosa. Ecco quindi che ci viene in aiuto rabbit.vcs. Se diamo il comando rabbit.vcs add, vedi che abbiamo a nostra disposizione una bella schermata che ci mostra tutti i file non tracciati da git, già belle che selezionati per essere aggiunti. E se io non voglio aggiungere un file, per esempio file4, basta che lo deseleziono. Diamo un ok ed anche un altro ok alla schermata di riepilogo. Torniamo ora al nostro amico TIG. Vedi ora che i file che abbiamo aggiunto con rabbit.vcs sono pronti per essere commitati e l'unico file non tracciato è file4. Siamo pronti ora per fare un commit e per farlo premiamo la C maiuscola. Per intenderci, un commit non è nient'altro che un punto di salvataggio del nostro repository. Ogni commit semplicemente contiene le differenze del contenuto dei file rispetto al commit precedente. Siamo quindi nel nostro editor e dobbiamo scrivere un messaggio di commit che normalmente indica in una frase quali modifiche abbiamo fatto rispetto al commit precedente. Visto che questo è il nostro primo commit, scriviamo primo commit. Vedi che ora la schermata di TIG è cambiata, non ci sono più modifiche da committare ed è rimasto solo il file4 non tracciato. Nel prossimo video andiamo a fare delle modifiche ai nostri file e vediamo come git si comporta con queste modifiche. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Spostiamoci usando freccia su e freccia giù sui file che vogliamo git git, vero? Mi più chiudezza su e freccia mi